Non sorprenderà nessuno sapere che c'è un'alta concentrazione di longevi in Grecia. Parliamo di una delle patrie della dieta mediterranea ed è risaputo che questa dieta fa bene, grazie alla presenza di verdure, all'uso dell'olio al posto del burro e al consumo moderato di carne. Dove si segue questa dieta, la salute è migliore. Ma c'è un'isola in particolare che registra numeri straordinari in quanto a longevità ed è Icaria. Qui vivono circa sette anni di più degli americani, con la metà del rischio di contrarre malattie cardiovascolari. E la cosa interessante è che di tutte le persone dai 70 ai 100 anni che ho incontrato, nessuna soffriva di demenza. Dovevo capire in cosa quest'isola fosse diversa da tutte le altre. Grazie. Grazie.